Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi, mi trovo a bordo di Costa Smeralda, precisamente al Ponte 16, in un'area bambini chiamata Baby Squawk. Questa area è dedicata ai bambini che possono giocare con i propri genitori dagli 0 ai 6 anni. Inoltre, per i bambini da 1 a 3 anni c'è il servizio Nursery, che è a pagamento. Vi faccio vedere. Per quest'area i bambini possono giocare con i propri genitori. Mentre questa è l'area Nursery, dove i bambini possono stare con il personale Costa Crociere. Spero vi sia piaciuto, vi aspetto a bordo di Costa Smeralda. Ciao!